Get to k n diretta video dalla casa 9 novembre 2017 oggi la giornata dei vip è piena di attività Lorenzo e Ivana vengono chiamati in confessionale Il grande fratello ha un nuovo messaggio per loro raggiunti gli altri i due leggono la comunicazione Cari vip è arrivato il momento di immergersi nel magico mondo degli animali Il grande fratello chiamerà a turno ognuno di voi in confessionale dove vi farà ascoltare il verso di un animale Dovrete riconoscere a quale animale appartiene dire qual è il nome del verso e provare a imitarlo nel miglior modo possibile Impegnatevi e correte in confessionale ogni qualvolta verrete chiamati avrete solo pochi secondi di tempo per raggiungere il confessionale a suo insindacabile giudizio Il grande fratello eleggerà uno o più vincitori a cui si riserverà di assegnare un premio speciale 09 novembre 2017 09 novembre 2017 08 novembre 2017 08 novembre 2017 x